Una vittoria importantissima, tre punti su un campo difficile, fortunatamente siamo riusciti a continuare questa striscia di vittorie e speriamo di continuarla anche dopo la sosta. È stato il rigore, io ovviamente ho sbagliato perché avevo il braccio alto, poi la palla dove mi ha colpito, non sono sicuro che sia stato il rigore, però non troviamo alibi, ha dato il rigore, facciamo anche complimenti a Filippi che ha parato il rigore, ci ha salvato e ci ha aiutato anche a vincere questa partita. Questa forse è una partita che a inizio campionato avremmo perso perché non eravamo con questa mentalità e ora fortunatamente siamo riusciti ad apprenderla e abbiamo vinto una partita che non era per niente facile. Sì, la classifica si guarda ma come hai detto te fino a un certo punto, noi comunque dobbiamo continuare a vincere e pensare a vincere senza guardare la classifica, poi quello che sarà a fine campionato si vedrà. Mi sento molto migliorato rispetto all'inizio campionato e ho ancora da migliorare ovviamente, ora sì nella sosta ho la fortuna di essere nazionale, per me è sempre un onore e dopo la nazionale ovviamente rimetterò la testa sulla Sampdoria. Sui tifosi dobbiamo ringraziarli perché anche oggi erano tantissimi, hanno riempito tutto il settore degli ospiti, sono fantastici e anche grazie a loro che riusciamo a vincere queste partite. Li ringraziamo. Grazie a tutti.